2 giugno beato l'uomo che sopporta la prova perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il signore ha promessa a quelli che lo amano giacomo 1 12 vittoria sulla tentazione nessuno sarà mai esente dalle tentazioni che variano secondo il periodo della propria vita in gioventù probabilmente si desidera compagnia e appagamento fisico e nel lavoro forse si sarà tentati di distorcere la verità o truffare per accumulare denaro dopo 40 giorni di digiuno e preghiera satana tentò fin anche gesù allo stesso modo tu sei vulnerabile agli attacchi sia nella floridità spirituale sia nei tuoi momenti più bui e tristi satana aveva compreso la missione di gesù e voleva impedirgli di compierla similmente e gli intende fermare anche te la battaglia in cui ti trovi non riguarda il tuo passato è in gioco proprio il tuo futuro quando gesù era ripetutamente tentato riuscì a sconfiggere satana usando la parola di dio così dovrai fare anche tu altrimenti non avrai difese il peccato può accecare incatenare e schiacciare esso rende schiave le persone tutti sono privi della grazia di dio ma gesù sulla croce ha vinto il peccato e la morte e chiunque crede in lui e lo accetta quale personale salvatore potrà essere vincitore con lui